Buongiorno amici e benvenuti ai test di studio 137. Stamattina voglio farvi vedere ed ascoltare ovviamente due bei microfoni molto molto interessanti e ottima alternativa possibile come microfono dinamico al classicissimo Beta 58A della Shure che è un po' il classico, diciamo il microfono che un po' tutti quanti voi avete per cui io faccio sempre un po' riferimento a questo microfono perché probabilmente è quello che sicuramente conoscete. Allora il primo è quello che state già vedendo e ascoltando che è il microfono della SE Electronics modello B7 quindi sempre un microfono dinamico super cardioide con una risposta in frequenza di 40-19.000 Hz su 300 Ohm con un peso di 305 grammi e con un prezzo variabile a seconda della finitura, a seconda del modello che prendete da 95 a 129 euro. Infatti il 95 euro è la versione quella base nera poi c'è il 99 che è quello classico che ha la griglia diversa un po' per andare a vedere fra l'altro ho fatto un test qualche tempo fa con quello lì, classico e fino ad arrivare a questa versione qua che è la cromata che ovviamente è un po' più costosa per tipo di finitura ovviamente il microfono è lo stesso, il tipo di suono è lo stesso. Porta all'interno ovviamente la borsettina sua, la clip, insomma le solite cose, la risposta in frequenza eccetera eccetera ed è un bel microfono molto bello, un bel microfono dinamico adatto un po' a tutte le situazioni e molto simile al Beta 58. Sentiamo un po' l'insieme e vediamo un po' la differenza e vediamo un po' l'insieme 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 Abbastanza vicini, abbastanza simili come tipo di risposta come tipo di microfono mentre invece il secondo microfono che voglio farvi vedere è un altro microfono molto interessante della Bayer Dynamic e ve lo lo vediamo insieme lo apriamo insieme allora il microfono si chiama TGV70 ovviamente c'è la la sua clip la risposta in frequenza borsetta molto bella della Bayer Dynamic fatta molto bene eccolo qua allora Bayer Dynamic TGV70 attenzione e qua andiamo su un microfono sempre un microfono dinamico sempre supercardioide ipercardioide anzi per la precisione questo è un ipercardioide quindi ancora più stritto rispetto al beta e al bisette che sono supercardioidi con una risposta in frequenza molto particolare perché qua scendiamo molto di più perché è 25 hertz e saliamo a 18.000 quindi 25 18.000 il microfono è un po' più pesante pesa 345 grammi quindi fra i tre è quello che pesa di più quello che pesa di meno è lo Shure ora qual è la particolarità di questo microfono che andiamo a vedere è che il diaframma del microfono è molto più largo rispetto a questi altri due di cui abbiamo parlato vi faccio vedere la differenza con lo Shure è chiaramente evidente la differenza il Bayer è molto molto più largo ok allora infatti avendo un diaframma così grande che è quasi un diaframma da microfono da studio ovviamente scende molto di più infatti arriva a 25 hertz perché chiaramente il microfono e il diaframma è più largo e quindi prende meglio le note basse va meglio sulle note basse infatti sentirete subito la differenza quando lo attaccheremo e sentirete una grande differenza sulle note basse ed eccolo qua Bayer TGV70 risposta in frequenza 25 18000 hertz quindi un microfono che scende molto di più sulle basse 280 ohm 345 grammi di peso quindi un microfono un po' pesantuccio massiccio 149 euro quindi rispetto al beta 10 euro in meno quindi un microfono che stiamo nella stessa fascia di prezzo vi ricordo che è un microfono ipercardioide quindi ancora più stritto rispetto al beta quindi già appena vi girate un po' il microfono già sentite la differenza 6 prova 6 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 7 7 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 Quindi concludendo un microfono sicuramente molto più caldo, molto più profondo. Quindi sarebbe interessante da provare anche su una voce femminile per sentire come suona su una voce femminile e che corpo può dare a una voce femminile. Niente, spero di esservi stato utile, spero di avervi dato delle indicazioni interessanti e vi saluto e vi ricordo iscrivetevi al mio canale YouTube. Buona giornata, ciao!